La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso mezzogiorno del 27 gennaio del 1945. Fumo Charles e io i primi a scorgerla, stavamo trasportando alla fossa comune il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. E' il racconto, carissima Marta, che si ritrova nella prima pagina della tregua, il libro in cui Primo Levi racconta un pezzo della sua esistenza, dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz al viaggio di ritorno per raggiungere l'Italia. E' il racconto di un tempo sospeso tra la tragedia del male assoluto vissuto nel lager e la consapevolezza delle difficoltà e delle asprezze del reinserimento in una vita nuova. I sopravvissuti dovranno ricostruire le proprie esistenze normali, portandosi dietro il carico terribile di esperienze indicibili a cui sarà difficile, se non impossibile, sopravvivere. Ma è l'occasione per ricordare quanto sia importante, certo, la memoria, ma quanto sia necessaria stare attente a non confonderla con la storia. Faccio un esempio. Si legge in un documento ufficiale del Parlamento europeo che il campo di Auschwitz è stato liberato dalle forze alleate. Espressione formalmente giusta, con la quale però si manomette, a vantaggio di un uso molto politico della memoria, la scienza storica, che racchiude i risultati delle ricerche portate avanti secondo i criteri e le metodologie che ne fissano lo statuto epistemologico. Con un risultato che a ripeterlo un giudizio simile, soprattutto in tempo di fake news, esso finisca col diventare per molti vero. Per cui un lettore distratto della tregua finirebbe col convincersi che non davanti a un racconto di un testimone oculare egli si trovi, quanto piuttosto a una ricostruzione romanzata di un signore che aspiri a diventare scrittore. Ora i sovietici saranno stati tutti quanti brutti, sporchi e cattivi, ma gli storici ci hanno raccontato e ci raccontano, studiando i fattori che indirizzarono gli eventi in tale direzione che furono loro a liberare Auschwitz. Nonostante non siano pochi i materiali prodotti riguardanti la storia, ci si dimentica con molta frequenza dello spettro dei significati comuni del verbo greco istoreo, da dove discende la parola che indica la nostra disciplina. Indagare, raccontare, interrogare qualcuno come testimone. E Levi è indubbiamente un testimone da interrogare per comprendere e non per giustificare.